Ehi, brutto pezzo di m***a! Hai finito di lanciare quei botti? Ogni volta che uno di due cosi scoppia mi tremano le orecchie e mi cago addosso dallo spavento, lo capisci? Non ti augurerei mai che uno di due cosi esplode nelle mani, però potrebbe succederti, c***o, e quindi è ora di smetterla! Se non credi a me, credi almeno ai numeri! Soltanto l'anno scorso questi stupidi botti hanno fatto una vittima e 79 feriti. Ci stai ancora pensando? Intanto, comunque, se hai un cane come me e non sei un cane di essere umano come quei pezzi di c***a che fanno esplodere sti c***o di cosi, esistono un po' di dolcissime precauzioni che devi assolutamente prendere. Chiudi bene le imposte delle finestre e attutisci il rumore con della musica, meglio se neomelodica ovviamente. Non punirci mai quando siamo spaventati, ci stiamo già cagando addosso, che senso avrebbe? Facci trovare un rifugio sicuro in una zona tranquilla della casa, se ci sono dei giochi e del cibo è anche meglio. Non lasciarci mai da soli, in compagnia ci speriamo molto meno. Quindi, brutto figlio di c***a, ricordati che se vuoi esplodere uno di quei cosi, mi inc***o un botto.